I finanziari del comando provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato circa 8 chili di cocaina e 266 mila euro in contanti occultati in un'auto controllata nei pressi dello svincolo autostradale dell'A2 di Rosarno e arrestato un corriere della droga. Una pattuglia del gruppo di Gioia Tauro ha fermato per un controllo un mezzo proveniente da nord, identificando il conducente. Quest'ultimo nel corso delle operazioni si è mostrato agitato e insofferente. L'intervento del cane antidroga Gioel ha quindi rafforzato i motivi di sospetto quando ha puntato la zona alla base dell'auto, dalla parte del passeggero e poi dal lato guidatore. I finanziari hanno quindi proceduto ad un controllo più approfondito trovando 7 involucri occultati all'interno di un doppio fondo ad apertura elettromeccanica ricavato nel pianale contenenti complessivamente 8 chili di cocaina. In un secondo doppio fondo sono stati trovati blocchetti di denaro contante composti da banconote di vario taglio, soprattutto piccolo. Lo stupefacente che è risultato avere un elevato principio attivo, qualora immesso sul mercato e tagliato sino a quattro volte, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 2 milioni e mezzo di euro.